Allora, 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 allora RxJS, perché? Perché in Angular è una dipendenza fondamentale Grande pub, da scherzavo, ci mancherebbe, anche per me Allora, il RxJS, ripeto, perché? Perché in Angular è una dipendenza fondamentale In Angular tutto quanto praticamente è un observable, tutto quanto, tra virgolette La parte di routing, i form, tutto quello che riguarda anche l'output, gli emitter dei components Abbiamo praticamente un po' tutta l'architettura basata sul concetto di observable Ed espone a Angular tutte le API sotto forma di observable Per fortuna all'inizio, quando uno è un po' a digiuno Riesce a sfruttare delle opzioni che Angular fornisce Per non dover, appunto, subirsi dall'inizio a RxJS Che ha una curva di apprendimento un po' elevata E quindi molto spesso uno ne fa meno In realtà, capendo come funziona bene RxJS E sapendo creare sequenze di observable Alla fin fine si riescono a mettere insieme router Chiamata il server Anche l'HTTP client, ovviamente, quando facciamo subscribe Un observable E riusciamo a creare queste sequenze dove in 4, 5, 6 righe Riusciamo a fare cose effettivamente fantastiche Che richiederebbero molto, molto più codice, no? Quindi, secondo me, il meglio di essere RxJS Lo dà nel momento in cui dobbiamo coprire scenari complessi E' assolutamente overkill se dobbiamo fare un Hello World O applicazioni molto semplici, no? Quindi, se dobbiamo gestire Fare una gestione dello stato un po' avanzata Se dobbiamo, appunto, gestire, ripeto Situazioni in cui abbiamo diverse azioni concatenate l'una con l'altra O sequenziali o in parallelo Dà, appunto, il meglio di sé E, appunto, però, diciamo che nella masterclass Che andremo ad approfondire la parte di Angular E oggi vedremo invece, semplicemente, da zero Come funzionano gli observable, gli operatori di creazione E gli operatori pipeable Se volete un'introduzione su RxJS, ripeto La trovate sul mio canale YouTube Nella playlist italiana di Angular Lì sono gli ultimi due video Sia questo e sia un'introduzione teorica Sia come creare gli observable da zero Infatti, in quel video mostro come creare Quello che useremo adesso Un, quindi, un operatore di creazione di un observable Per un interval e per un Per gestione degli eventi Il from event che vedremo tra un pochino Va un po' dietro le quinte Per capire cosa vuol dire next Cos'è un observer, cos'è un observable Cos'è solo le notifiche, appunto, next, error, complete E così via Oggi lo rivediamo un po', però quella parte è l'assalto Quindi, in linea, praticamente, per iniziare Senza, magari, appunto, quell'introduzione Possiamo dire che spesso Gli observable sono Trattati alla stregua di uno stream di dati È uno stream di dati dove abbiamo È rappresentato in questo caso da questo diagramma In cui a sinistra abbiamo l'inizio del tempo E poi a destra il tempo che va fino a infinito Va fino a infinito a meno che Qui non indichiamo con una simbologia Che non è a caso Adesso poi vi spiegherò che cos'è Che questo è completa Con questo simbolo, una barretta verticale Andiamo a dire che invece il tempo non va fino all'infinito Ma a un certo punto finisce Finisce cosa? Il ciclo di vita di quell'observable Ci dice che l'observable completa Durante questo ciclo di vita Praticamente possiamo emettere dei valori Immaginate che questo stream di dati È come una socket Che manda valori sempre dal server al client In questo caso immaginate un generatore di eventi Di valori Che può essere uno stato applicativo Semplicemente una variabile pippo Che diventa true false O può essere un evento che gestisce Degli eventi, scusatemi, dei valori Emessi da un campo di input Quando scrivo Quando praticamente scrivo qualcosa L'evento on change Vedremo a breve che può diventare un observable Cioè il mio campo di input diventa osservabile E posso sottoscriverlo E ricevere delle notifiche ogni volta Che qualcuno scrive in questo campo di input Sì, possiamo abbassare un po' la musica Assolutamente Vediamo, ditemi se così va già meglio La vedo morta Ma non so se la canzone è andata a metà Allora C'è andata a metà Se sta iniziando l'altra Ecco, mi sa di sì A questo punto, no? Quando vengono emessi dei valori In questo observable Andiamo a indicare in questo diagramma Che sono dei valori emessi da questi pallini Questi pallini prendono il nome di marble E questi diagrammi Prendono il nome di marble diagrams Non sono messi lì a caso Perché nella documentazione Se andiamo a cercare un operatore Per esempio Questo è l'operatore off di creazione Che andremo a utilizzare adesso Ben, l'ifo... no, ilfosi Andiamo ad avere questi diagrammi Che rappresentano il funzionamento Di questo specifico operatore Vedrete Gli operatori non sono nient'altro Che delle funzioni Che in questo caso Generano degli osservabili In questo caso Un osservabile stupido Che può sembrare inutile In realtà è più utile Di quel che sembra L'off Come operatore E' un operatore Che noi chiamiamo Con... invochiamo con off E passiamo una serie Un numero arbitrario Di parametri E in questo caso Passiamo un, due, tre Il diagramma cosa dice? Dice che Il... questa linea temporale L'observable Emetterà uno, due e tre E completa Vedete la... Il pipe verticale La linea verticale Qui alla fine, no? Dell'operatore Quindi ci spiega Effettivamente come funzionano, no? Per esempio Se vado su interval Qui troviamo invece L'interval cos'è? E' un operatore Che nel momento in cui Lo sottoscriviamo Emetterà zero Uno, un contatore Uno, un set interval Due, tre E se notate Dopo il 5 Non c'è la barretta verticale Perché Guardavo lì a telecamera Ma in realtà siete qua Perché completa Praticamente E scusatemi Perché non completa mai Quindi va all'infinito, no? A meno che Decidiamo di terminarlo In qualche modo, no? E quindi questi diagrammi Sono fondamentali Per comprendere Per comprendere Come funzionano I nostri observable, no? E in questo caso Vedete un observable Dove diciamo che In maniera randomica Vengono emessi dei valori, no? E ad un certo punto Per qualche strano motivo Termina Però ovviamente Questo non ha molto senso Quelli di prima Spiegano esattamente, no? Come funziona il tutto Poi andremo a vedere Anche degli altri Allora Il primo operatore Che andremo a vedere È proprio Of Questo qui Importato Come vedete Da RayJS Il Tra l'altro Io qui Sto usando RayJS 7.5 E tutti gli operatori Di creazione E anche quelli Che vedremo Tra un po' Pipeable Sono importati Dal pacchetto RayJS Tranne Pochi casi Tipo Ajax Per fare la chiamata Http E pochi altri Mentre In RayJS 6 Quindi quella di Qualche versione fa E ve lo dico Perché Angular 11 12 Usa ancora RayJS 6 Angular 13 14 Già la 7 Forse già la 12 Adesso non mi ricordo Dove c'è stato lo switch Tra i due In realtà Gli operatori di creazione Sono importati da qui Nella versione 6 Gli operatori Pipeable Sono importati Invece da Slash operators Cambiano solo gli import Poi nel funzionamento La maggior parte Degli operatori Rimane praticamente Identica Non è cambiato Praticamente nulla Se non nella gestione Di multicasting Di cui non parleremo Stasera Ma lo dico Per chi già usa RayJS Ad ogni modo Tutti gli operatori Vengono importati Da questo pacchetto Che ovviamente Ripeto Una dipendenza Del progetto In Angular C'è già E questo qua Sta semplicemente Creando un observable Infatti Come vedrete Posso sottoscriverlo E fare un console log Anzi Lo scrivo prima In maniera estesa Poi in maniera compatta Qua riceviamo I valori Emessi da questo observable Adesso arrivo alla chat Finisco giusto La parentesi Praticamente Stiamo dicendo Che quando L'observable of Emette Dei valori Andiamo a chiamare Invocare questa call Back questa funzione Che riceverà il valore Emesso dall'observable E lo printiamo Facciamo il print Ovviamente Questo observable Non emette nessun valore Ma abbiamo visto Che possiamo piazzare Qui dentro Dei valori Arbitrari Un numero arbitrario Di valori Come vedete Questa funzione Viene invocata Tre volte Perché se ci piazzo Qui una freccia La vedrete tre volte Questi valori Sono emessi Praticamente Simultaneamente Ma uno dietro l'altro In uno stesso momento Quindi Se c'è la varietà Del diagramma Non devo fare un subscribe Perché si completa da solo Esatto A meno che L'observable Non si completi Per qualche motivo Immagina che sia un contatore Che arriva a 100 E a 100 termina Se tu esci da una view O distrugge un componente Potresti voler Diciamo Far una subscribe Prima Della conclusione Dell'observable Della conclusione Autonoma Dell'observable Quindi in quel caso Fa una subscribe Perché non vuoi Che dietro le quinte Ci sia ancora Sto counter Che giri Magari non lo vedi Ma in memoria C'è comunque Quindi in quel caso Se vuoi pulire Il garbage collector Fa una subscribe E aiuti sostanzialmente Lo aiuti a Ripulire la memoria Però sì In teoria Appunto Nella sostanza Se fa una subscribe Se in autonomia Si completa Non ti serve farlo Questa parte qui La capite Se vedete il video Che ho fatto su youtube Quella della creazione Degli operatori da zero Dove spiego proprio questo Perché si fa una subscribe Cosa succede in un observable Quando fa una subscribe E così via E' bello secondo me Perché c'è tutto Dietro le quinte Di quello che invece Viene fatto qua Facciamo anche un operatore off In realtà non lo scrivo proprio off Ma sostanzialmente L'off L'interval from event Li scriviamo da zero E si capiscono tante dinamiche Secondo me Allora Bene Meglio una subscribe In più che uno in meno Ci sta Ci sta Come teoria Allora bene Qui abbiamo messo Questi tre valori Ora Questa funzione Può essere Comunque scritta Con una arrow syntax Quindi tolgo function E metto questo Qua possiamo togliere Le tonde Perché abbiamo solo un parametro E quelle graffe Idem Quindi spesso Lo possiamo scrivere Così No? Il nostro console log O addirittura Visto che Qui abbiamo Sostanzialmente Una funzione Che riceve un valore E lo passo Una funzione interna Possiamo anche Renderlo Ancora più conciso Semplicemente Il console log Riceve il valore Che appunto Vi viene passato Da subscribe E lo printa Così abbiamo Un codice Un pochino più Compatto Ok Tra l'altro Questa è la versione In realtà Torniamo a questa Un attimo Ho ripulito Per niente E allora Abbiamo la versione Compatta No? Anche qua Nel video Spiego che In realtà Attualmente Questa versione Qui Va ancora bene Ma nell'observable Potremo avere Degli errori Adesso arrivo Hammer Degli errori E abbiamo Una seconda callback Anche questo passaggio Potrebbe sfuggirvi Se non avete Un attimo Visto Il video Però Comunque Durante il ciclo di vita Eh si era Durante il ciclo di vita E qua era Tutto sbagliato Parlando Durante il ciclo di vita Dell'observable Potrebbe capitare Un errore nel mezzo Della catena Diciamo Della sequenza Diciamo più oltre Della ciclo di vita Dell'observable E in quel caso Viene automaticamente Invocata una seconda callback Per chi usa Angular Saprà che L'http get No? Chiama Invochi in caso di successo Devo invocare la seconda Ma in RxS7 Questo approccio È deprecato Se vedete Qua non ci sono problemi Appena giungo La seconda callback Non si può Cioè non si può Mi segnala Che questo approccio È Viene flaggata Come deprecata No? Quindi Vedrete che Potrete vedere In giro Scritti gli observable Il più che altro Queste callback Che hanno un nome Si chiama observer Scritti in questo modo Next Riceve il Valore Sono assolutamente La stessa sintassi Però con Scritti in modo Differente E nel caso di errore Andiamo a riceverlo Invece in questo caso Ora questo observable Non emette mai un errore Però Sappiate Come spunto Appunto Che in RxJS7 Vi richiede questo tipo Di sintassi Rispetto all'altra Ripeto Guardatevi il video Chieso mai Per più dettagli Grande we read Un ripassino serve sempre Ok Conviene scriverlo Come oggetto Che ha next Eh si infatti Vedi che abbiamo Fatto questo Però ripeto Solo se abbiamo Necessità di gestire L'errore Ed eventualmente Anche il complete Quindi per esempio Quando l'observable Completa Noi possiamo Eventualmente Noi In realtà Viene automaticamente Invocata la funzione Associata al complete No Può essere utile Per far qualcosa Nel momento in cui Sappiamo che l'observable Muore In realtà Non è che si usi Spessissimo il complete Allora Boh Detto questo Di cui ripeto Trovate dettagli Su youtube Torniamo a questa sintassi Qui no Che è la versione Più concisa e compatta E Come abbiamo L'operatore di creazione Of Abbiamo anche Altri operatori Tipo Interval Che ovviamente Non mi importa Di in automatico Stackblitz È un ripasso di lunedì Alle dieci e mezza di sera Allora L'intervallo È un operatore Che richiede Un solo parametro Il tempo Quindi in mille secondi E come vedete Viene messo Un contatore Quindi un valore Quindi qua abbiamo Il valore Che parte da zero E arriva a n E non completa mai Che è stato Quei regalato Trinacrio Ma grazie mille Gentilissimo E non serviva Troppo buono Eh Troppo buono Grazie ancora Non mi interrompo Ma poi ti ringrazio Di nuovo E vado avanti Ma dopo ti ringrazio Di nuovo Grazie davvero Tranto c'è Un piccolo problema Qui di stackblitz No Quando faccio Magari un save Vedete Mi rimane Il vecchio timer Quello è un po' Una rottura di scatole Io faccio un console log Qui Ma è un po' Un bug Un bug Siccome non faccio Una subscribe Di questo timer Rimane attivo Però ripeto Un bug Di stackblitz Grande Tinacrio Grazie mille Per le sub regalate E ciao Fabio Eccoci Allora Operatore di creazione Abbiamo visto Questo è il diagramma Sulla documentazione Di array E c'è tra l'altro C'è anche una descrizione Emette numeri incrementali Periodicamente nel tempo In maniera Penso Periodica Nel tempo Qua c'è scritto Un'altra definizione Crea un observable Che emette Valori Numeri sequenziali In Ogni Tempo Specificato Come parametro E quindi Volendo non riuscite a capire Insomma Più o meno Cosa fa Da notare Che l'observable È questo Ok Quindi questo È un observable Se io lo salvo in una proprietà Questo è un observable Vedrete Questo è un observable No Perché c'è la subscription qua sotto Questo è un observable Che emette dei number Quindi in generic Viene indicato Che tipo di valore Viene messo In questo Stream di dati Se invece Salvo questo Ops Salvo questa Mi raccomando Qui sto salvando invece Una subscription Vuol dire che sto salvando Il contratto che c'è Tra l'observable E Chi Consume i dati Che viene chiamato Observer Che praticamente sono Il mio oggetto Next error complete Che qui ho scritto in maniera concisa No Ho scritto con questa sintassi Quindi qua Io quello che posso fare qui Non è La subscribe Perché questa è una subscription L'unica cosa che posso fare L'unica Una delle varie È unsubscribe E per capirci Se faccio la subscribe All'inizio Vedrete che sto observable Non mi emette mai valori Perché l'ho sottoscritto Ma poi faccio la subscribe Immediatamente Ok Allora Torniamo qui Quindi abbiamo già visto Due operatori di creazione Of E interval Eventualmente abbiamo anche Delle varianti di interval Interval per esempio Mi è capitato più di una volta Nella vita Non con RGJS Ma in generale Di avere un intervallo Di dire Ogni tot Devo fare qualcosa Magari più riguardo Animation O cose di questo tipo Che la parte server E c'è il problema Che molto spesso Il timer parte Dopo 5 secondi E la prima volta Che viene invocata Che viene invocata La callback Dopo 5 secondi Però molto spesso Mi capita Vorrei che fosse inviato subito E poi Dopo 5 secondi Oppure magari Che ne so La prima volta Vorrei che Partisse la prima callback Dopo 5 secondi Ma poi Continuasse ogni secondo In questo caso Abbiamo un operatore Che è una variante Dell'interval Che è timer Che ci permette Qui di indicare Per esempio 3000 Facciamo quindi 500 Il primo Parte dopo 3000 Cioè dopo 3 secondi Cioè questo è lo start time Questo è il tempo Invece periodico Ogni 500 millisecondi Ecco in questo caso Il primo vuol dire Che viene messo dopo 3 secondi E poi ogni 500 Oppure possiamo dire Anche 0 3000 In questo caso È l'altra circostanza Qui dico Voglio Aspetta Voglio che parta subito Vedete 0 Poi Dopo Ogni 3 secondi Vabbè Una variante Che può esservi Comoda In alcuni In alcuni casi No E comunque anche questo Sempre un operatore Di creazione Quanti operatori Di creazione abbiamo Un altro sito Validissimo È Learnerxjs Dot io E qua abbiamo Gli operatori divisi Anche per tipologia Mentre nella guida Anche per scoprire Trinacria Basta Trinacrio Scusa Trinacria Ormai ero in Sicilia Grazie mille Grazie mille Veramente Dopo fammi sapere Chi sei Anche Realmente Che Insomma A meno ti ringrazio Ti mando un gadgettino Qualcosa Mi mando una vita Da una vita Che non mando gadget Allora Dopo magari facciamo Qualche solita estrazione Dai ne facciamo un po' Magari anche qualche gadgettino Che vi spedirò magari a Natale Però Lo faccio Allora E qui abbiamo No Create Vedete abbiamo Love Il timer L'interval Ah si è vero Che sei domenico Ma che vedi Mi dimentico Ma domenico Basta Basta Dopo ci sentiamo Grazie Allora Il vantaggio rispetto A usare set interval nativo E Vedi a mia memoria Ormai son beccio Trinacrio Perdo colpi Allora Il vantaggio di usare Set interval nativo E Invece di usare Set interval nativo Non c'è E vedete Quindi Il vantaggio È nel momento in cui Tutta la mia architettura È reattiva Usando Angular Che è già reattivo Di per sé Usando state manager In il mondo Angular Che sono reattivi Usando anche in React Ci sono diversi Anche middleware Per Redux Come Rx Observable E via dicendo Potremo poi Creare sequenze Di observable E concatenare Le varie cose Per capirci Immagina che io Ogni tre secondi Deba fare una chiamata Al server In questo caso Dovrei Qui nella callback Prendere il valore Magari una chiamata Al server In cui il parametro L'intervallo Una volta con 0 1 eccetera In realtà Dovrei mettere qui Fare una chiamata E poi Sottoscrivere anche quella Oppure fare una chiamata Con fetch Indifferente Avremo Praticamente una sorta Di callback Con dentro una callback No? In questo caso Quello che potremo fare Sarà poi Prendere qui Un pipe E qui dentro Concatenare Diverse cose Potremmo dire Filtrami contatore Solo i dispari Voglio per esempio Rimappare il contatore 0 1 In una stringa A quel punto Fai una chiamata Al server E passa questi dati Prendi il risultato Della chiamata al server Passalo a una seconda Chiamata al server Che deve fare Qualcos'altro Prendi i dati Rimappameli In un certo modo E filtrameli Con un operatore Specifico In questa catena Pipe E se abbiamo Angular Possiamo dire Prendi i parametri Da router Che sono degli observable Passalo la chiamata Al server Facci qualcosa O Scrivi in un campo Di input Quindi qui avremo Un input Lo vedremo tra un po' E filtramelo Con catena Tutto quanto In una sequenza Più o meno Diciamo che Segue un po' Un approccio funzionale Infatti La programmazione reattiva È una branca Della funzionale E questo pipe Dovete immaginarlo Come un compose Della parte Di functional programming Dove in realtà Abbiamo la possibilità Di applicare Diversi operatori Per manipolare Il nostro stream di dati E farci Delle cose E ripeto Se tutta l'architettura Reattiva Ha più senso Rispetto a un esercizio Hello World Come questo È un'alternativa Da sync e wait No Diciamo che C'è sempre questo parallelismo Tra promise E Observable Ma in realtà Promise e l'observable L'unica Diciamo Similarità Che hanno È quella di Invocare una callback Dopo un determinato Tempo E però La promise Tra l'altro La puoi invocare Solo una volta L'observable Potenzialmente In infinite volte Però l'observable Ripeto Cioè la promise È limitata Praticamente a tutte Le operazioni Asincrone Qui in realtà Non stiamo lavorando Con operazioni Asincrone O non sempre È proprio Proprio dei più ottimali Quindi Oggi Vediamo un pochino Come funzionano Questi operatori E vi mostro Qualche sequenza Poi sì Reattivo Guard è più mantenibile Anche perché Sostanzialmente È eredita Alcuni concetti Della funzionale Tra cui per esempio Il concetto Di funzioni pure Gli operatori Sono sempre puri Di conseguenza Non dovrebbero mai Usare variabili esterne Sono Hanno un contenuto Predicibile Predictable Nel senso che Sappiamo quello che entra Quello che esce Sempre Questo vuol dire Avere meno possibilità Di errori Vuol dire avere anche Un codice più pulito Perché evitiamo Callback hell Una dentro l'altra Insomma ci sono Diversi vantaggi Nel utilizzare In questa pipe Si si può fermare Prima di entrare Nella subscribe Per esempio Per degli errori A seguito Di una risposta HTTP Assolutamente sì Magari fermare no Ma si può gestire Vediamo di arrivare A quello magari Questa sera Spero di sì Anche la parte Di errori E chiamate HTTP Però mi fermerò Lì Anche perché poi Da lì parte La masterclass Allora Grazie Luigi Per la sub Intanto Allora Infatti andiamo su Un operatore più interessante From event Anche qui Si può usare Un ad event Immaginate di avere Non semplicemente Un this Anzi this Un document Questo è JavaScript puro No Click Virgola Chiamo una funzione Console log E questa funzione Riceve l'evento L'evento del mouse Questo lo togliamo E noi Clicchiamo ovunque Nello schermo Abbiamo un errore Qua non so perché Perché abbiamo un errore Cosa ho fatto Vediamo Click 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 Ok Vedete che abbiamo Il nostro mouse event Pointer event Ed è classico approccio In javascript Volendo però Perché dovremmo Trasformarlo in reattivo Proprio per fare in modo Che si integri Perfettamente in questo Flusso reattivo Di altri observable Se no basterebbe Questo no Però adesso ripeto Impariamo le basi From event Operatore importato Forse spero Sì eccolo qua From event Definizione di from event Beh la prendiamo Da Learner XJS From event Andiamo qui E vediamo Turn Trasforma un evento Into In un observable In una sequenza di observable Quindi Trasforma un evento In un observable Quindi noi qua Abbiamo due parametri Il primo parametro È il selettore Document Il secondo È il tipo di evento Click Lo sottoscriviamo E qua abbiamo La stessa identica callback Tra l'altro Possiamo ricopiarla E vedrete che Il risultato Refresciamo È praticamente Lo stesso Identico No Solo che il vantaggio Ripeto È che adesso Qui dentro Potrei per esempio Andare Con degli operatori pipe Che vedremo a breve A diciamo Manipolare Questo stream di dati O al click Potrei dirgli Fai una chiamata Server per esempio Direttamente Qui In questo punto Evitando quindi Di sporcare questa parte E immaginate In un'architettura In angular Dove per esempio Tutta la parte di Logica La possiamo spostare In un servizio O In altri Con altri pattern Alla fine Noi potremo avere Qui tutta la sequenza Che serve per arrivare A un determinato risultato Nascosta E qua avere la mia classe Punto No My method Bene o male Che sottoscriviamo Quindi la UI Sottoscrive Sottanzialmente Una sequenza di observable Che fa tante magie Dietro le quinte Ma noi Nella UI Poi Non ne sappiamo nulla L'importante è che Riceviamo i valori Emessi da questa sequenza No Quindi possiamo Quindi possiamo Nascondere un po' Di implementazione Poi no Sotto il tappeto Ok Quindi questo From event Può ascoltare Qualunque tipo di evento Qui può avere un selettore Per esempio Get element By id Prendiamo BTN Che sarebbe Il mio pulsante Click me Perché ha un id BTN E il click Adesso Se clicchiamo qui Aspetta Questo è Stackblitz Che non pulisce la memoria Se clicco qui Non succede nulla Clicco sul pulsante Abbiamo il click me Oppure il mio input Mi pare che si chiami input Evento Input Sarebbe una sorta di change Adesso andiamo qui Scrivo una lettera Vedete che abbiamo Un input event Non abbiamo più Un mouse event Quello lonely Quanto tempo Sì sono tornato Hai visto Ogni tanto Ogni tanto E qua abbiamo questo Ok Cos'è un input event Tutto Arriva In realtà Oppure potremmo fare il change In realtà In javascript No Potremmo fare questa roba qui Ad event listener Ricopiamo Sì document Get element Questo qui Scusatemi Perché alla fine I concetti sono sempre quelli E anche in angular No Aspetta Ho sbagliato tutto Qua Ad event listener Sì Click Anche in angular No Se volete scrivere direttive custom Se volete creare web components Con lit Eccetera È importante avere un minimo di basi Di manipolazione del DOM Di come funzioni javascript E via dicendo Perché poi alla fine Tutto arriva da lì Comunque Togliamo questo Refresh Per sicurezza Ripudire la memoria Grazie Mencos E qua Scriviamo qualcosa Vedete Praticamente il risultato È lo stesso No Però Immaginate Come Anzi Più che immaginate Come faccio a prendere Il valore del campo di input Che è inserito In questo In questo input text Qui recuperiamo Event Event ci restituisce Event target O current target Vedete Quando scrivo Abbiamo riferimento All'html input element Praticamente come se fosse Un get element by id Su quell'elemento E poi recuperiamo Per esempio il value No Forse Perché ho messo Ah click ho messo Genio Evento input Ovviamente faceva il click Qualcosa non mi quadrava No Infatti Esatto Allora Vabbè Qua abbiamo un errore Di tipizzazione Non c'entra nulla Con Rx O in realtà Ho un problema Con javascript Che il target È un event target Generico Non All'interno Non ha la proprietà value Cioè non può sapere Se questo è un campo di input Una select E via dicendo E quindi possiamo fare Eventualmente un casting Dicendogli As HTML input Stiamo usando typescript Qui anche se non si direbbe Stiamo usando typescript Opla E ormai non mi scappano più gli opla Mi sono limitato quella volta Allora E abbiamo lo stesso risultato No Stessa cosa In Rx No Abbiamo detto Prima Ricopiamo Adesso arrivo Al trick No Diciamo al trick Insomma qualcosa Di più interessante Abbiamo qui il valore E qua console.log Che sarebbe il mio evento No Quindi a qui dentro Ricevo l'evento E anche qui posso fare Esattamente questa cosa No Praticamente Identica Al codice Nativo No Ok Però Però E' avvenuto un trauma No Non lo so Se ne lavate sempre Poi mi sono limitato Non mi viene più Allora E quindi poi abbiamo questo Ora Ora In realtà Qui Cosa succede? Una buona pratica Nella rej.js E arrivare Nell'observer Quindi in questa Funzione next Che sarebbe la funzione Che viene chiamata Invocata Quando arriva E viene messo Un nuovo valore Nell'observable Già con il valore finale Che mi serve E cercare di mettere All'interno di questa subscribe Meno codice possibile Qui dentro Quindi sarebbe carino Arrivare Ad avere Il testo Direttamente E non L'evento Come possiamo fare? Possiamo intercettare L'evento emesso Dall'observable E usare E usare Un Pipe Un metodo pipe Il metodo pipe Ci permette qui all'interno Di inserire Una catena di operatori Quindi Operatore 1 Operatore 2 Solo che Invece di essere Operatori di creazione Sono operatori Che possono potenzialmente Manipolare Il nostro stream di dati E tante altre cose E tra i più semplici Possiamo per esempio Usare l'operatore map L'operatore map Che è importato È più o meno Il map degli array Map Da un valore Da un tipo A un altro Comunque un valore Comunque sia Tramite una funzione Di proiezione Che restituisce Il nuovo valore Rimappato Quindi Questo map Essendo prima Della subscribe Riceve che cosa L'evento Quello emesso Dal From event E qui Spero di averlo Con in memoria Eccolo qui E qui uso Quel famoso event target Value che avevo Qui dentro Quindi viene intercettato L'evento E lo converto Per esempio Qui guardate Potrei convertirlo A 1 2 3 Ogni volta che digito Un carattere Viene rimappato L'evento O qualunque cosa Anche nulla In 1 2 3 E qui riceverò Sempre 1 2 3 Oppure ricevo L'evento E torno L'evento Inutile Trovo questo Oppure potrei tornare Punto target Questo vuol dire Che questo sarebbe Un html input element O Il suo value Eccolo qua Ho np completo Vedi Anche tu i complete Sei compl No niente Non mi veniva la battuta Con i complete Dari i js Allora Già ho fatto Un battutone Sui video Dari i js Dicendo Visto che siamo In tema Dari i js Sottoscrivi il canale Questa è la miglior battuta Che ho fatto Sulla i js In tutta la mia vita Quindi Allora Comunque anche questa Angolazione delle camera Non mi piace Va bene La cambiamo Ciao Aspetta che trovo Il pulsante giusto Per cambiarla No Allora Markintosh Markintosh Grazie per la sub Allora Ah no Ha regalato Grazie per averla regalata Cristian Adesso ho visto Grazie mille Anche a zio Pino E anche il mp completo Ma l'ho già detto prima Allora Bene Spero che inizi a essere chiaro No? Come funziona il meccanismo Ora In realtà Qui mi arriva direttamente Il testo Ho più telecamere Visto Che roba Cazzo Mi ci vuole una regia Esatto Sottoscrivendo il canale C'è una notifica Ogni volta che fa Vi mette un valore Esatto Che rottura di balle Allora Ricordatevi che sono Anche su telegram Che lì è quel momento In cui spammo di più Insomma le live E tutto Allora Abbiamo questo Però Immaginiamo Ad un certo punto Se sei un cretino Sei fuori Se fai troppa teoria Sei fuori Sei fuori Non ho tanto Che non lo vedevo Allora Tra l'altro L'ho messo alla fine Questa gif Non l'ho presa mai usata Quasi Allora Qui Abbiamo il mapping Immaginiamo di voler Arrivare qui Ok Solo Ho più che arrivare Immaginato che mi interessa Il testo Che abbia almeno Tre caratteri Io potrei fare questo If Ok Se la length È maggiore di 3 Faccio Che ne so Faccio una chiamata al server Vedete I primi sono stati Beh l'ho fatto velocemente I primi sono stati ignorati E dopo Viene ovviamente Invece Invocato Il Viene messo un valore Quando sono sotto i 3 Vedete Questo è un if No Come prima avevo anche il mapping Di te target Eccetera Questo if Può essere in realtà Rimpiazzato con un filter L'operatore filter In sto caso Cosa fa Occhio In sto caso Non riceve l'evento Se fosse sopra il map Riceverebbe l'evento Ma essendo sotto Riceve già Il valore Diciamo rimappato Quindi riceve il testo E gli posso dire Filtro True Cosa vuol dire in sto caso Togliamo qua l'if Che Ogni Diciamo Ogni testo Che viene Che viene messo In realtà Non viene filtrato Un po' come il filter degli array Se metto false Qualunque testo Invece con false Viene detto Escludilo Non emetterlo più Se ovviamente qua Crea una condizione Un predicate Quindi un'espressione Che restituisce un booleano Gli diciamo Se la lunghezza È maggiore di 3 A, B, C E qua Eccolo di nuovo E siamo di nuovo Arrivati qui Con il risultato finale Cosa c'è Cosa c'è Non lì A giro Allora Ok Va bene Allora Ma che array Stai usando Perché a me Dagli scorsi Utilizzi di array In realtà mi diceva Che la subscribe Fatta così Era deprecata No Ci sei perso L'inizio della live E quindi Non sai la soluzione E invece mi diceva Vedi, vedi E quindi Per sapere la risposta Dovrei rivederti La live Dall'inizio Grazie Degli applausi No In realtà Lonely È deprecata Solo quando usi La seconda funzione Di errore In quel caso Devi usare la sintassi Quella con l'oggetto completo L'observer completo Con next error complete No Ho schercatato L'ho detta la risposta Il tipo di input È inferito E sarebbe meglio Tipizzarlo L'ho tipizzato Il tipo di input Qua in realtà Aspetta In che senso Complimenti per la spiegazione Ah grazie Nando E vedi qua In realtà Essendo questo Un event target Che è tipizzato Un html input element Il value Di un html input È già una stringa Quindi restituendo Una stringa Qui effettivamente Viene già acquisito Come stringa Se è quello che intendevi Cristian veloce Dai sono su twitch Non vengo mai Una volta che vengo Su twitch Fammi cazzeggiare un po' Allora Arrivo arrivo Ok Allora Dopo questa spiegazione Però vi voglio rimostrare Il map Il filter E un sacco di altri Operatori Interessanti In realtà Di solito parto da quello Cioè con dei mapping Di numeri 1 2 3 4 E faccio vedere Un po' di cosine In sto caso Siccome avete rotto le scatole In senso positivo Su cosa serve a RIGJS Vi sto già mostrando Un esempietto Che abbia un minimo di senso Che poi è un esempietto Che faccio molto spesso Tra l'altro E Ok Immaginate adesso Sto aspettando il Milano Grazie Cristian Arrivo lì Arrivo lì Arrivo lì Odo Acre Ma Mi hanno servito E compagnia belle È sempre parte RIGJS O sono pattern Di altri paradigmi No no Sempre RIGJS Però di cui non parleremo stasera Parlerò della masterclass Anzi Ho sbagliato Di qua Nella masterclass E sono degli observable speciali Che sono degli observable Hot E non è una battuta In realtà Perché questi sono tutti Observable Cold Che è la differenza Tra unicast e multicast Di cui non parleremo oggi Ma appunto Se siete curiosi Qua Allora Ne parleremo Ne ho parlato anche tante volte In live in realtà Allora All'interno del pipe tube L'output dell'operatore E l'input del successivo Ah grande Luca che dà Che dà l'input Allora E qui Travatevi E no niente Non leggo neanche Quello che dice Lolli Perché so già Che andrà a finire male Allora Detto questo No Immaginate di avere qui Una chiamata al server Dai Arrivo già a un esempio Che è l'inizio della masterclass Qua una chiamata al server Text Quindi qua scrivo Ciao E immaginate che In realtà Devo fare una chiamata Per recuperare qualcosa No? A questo punto Qua per esempio Devo mettere Fabio Biondi Come vedete qui A parte il filtro Dali primi tre caratteri Avrei sei chiamate al server Che non è il massimo Sarebbe carino averlo Solo alla fine Qua ci verrà in aiuto Un operatore Che si chiama Anzi Facciamo così Facciamolo anche a manina Che carino Come potrei Fare in modo Che effettivamente Solo al termine Della digitazione Parta la chiamata E non per ogni carattere Potremmo creare Quello che viene chiamato Debouncing Un debounce Che può essere fatto a manina Cosa può essere? Semplicemente un timer Set timeout E gli dico A questo punto Dopo un secondo Fai la chiamata al server Quindi qua avremo Una chiamata Ajax No Chiamiamo così Con il testo Quindi qua In teoria Vedete Quando scrivo Fabi O Fabi Dopo un secondo Viene fatta la chiamata Ma se scrivo Fabio Biondi In realtà me le fa tutte Dopo un secondo No? E Loli non disturbare Questa line Allora Quindi viene fatta Quindi non abbiamo risolto Il problema Ma se io mi salvo Questa set timeout In una variabilina timer Magari se ti metto Un let davanti Let timer Timer E ogni volta Che digito Una nuova lettera Distruggo il precedente Clear interval Text Sì Timer Qui a questo punto Quando scrivo Fabio Biondi Blah 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 Praticamente Ogni carattere digitato Sta distruggendo Il precedente Set timeout Quindi non scatta nulla Appena li lascio Ovviamente abbiamo La chiamata No? E abbiamo più o meno Creato Un debounce A manina Sai che non so Iger Cosa intendi Con gli approcci Never subscribe Di Angular Mi dai qualche Mi dici cosa intendono Così magari Ti do un parere O se è un link Non lo so Cosa ho creato? Ah sì Clear Però funziona Come è fatto a funzionare Lo stesso? Come è fatto a funzionare? Mi avete suggerito Clear Timeout Però funzionato lo stesso Se notate Usando il Clear Abbiamo scoperto Che un interval Può cancellare un timeout Non lo sapevo Però va bene Siete che non sono L'unico pirla Che fa questo errore Però Funzionava lo stesso È giusto Era un Clear Timeout Vabbè Grazie per averlo segnalato Mistero Non sapevo No non lo sapevo Lo sapevi Lolli Non sarei più sicuro Intercettare ad esempio La pressione del tasto invio O un leave Del campo di testo In realtà puoi fare Quello che vuoi Diciamo che questa È una tecnica molto usata Per quando fai Gli autosuggest Per esempio Scrivi E poi ti fai proporre qualcosa Perché il leave Richiederebbe che tu andassi fuori Quindi in questo caso Se devi fare dei suggerimenti Dipende da cosa devi fare E sarebbe più scomodo Anche l'invio Dipende da quello che devi fare Poi vi mostro Ecco un esempio con l'invio Così colleghiamo Un observable dell'input Con un osservabile del click Tra l'altro Oh grazie Skimpy Per il ride Come va caro? Skimpy Bellissimo canale Anzi lui sì che va In live sempre Non io E seguitelo Perché fa un sacco di roba carina Su PHP Laravel React Wordpress E via dicendo Scusate Non mi soffermo tanto Skimpy che mi stanno Già sgridando Che ho perso troppo tempo In chiacchiere Quindi vado avanti Con RxJS Però grazie mille Seguitelo Insomma perché Merita Poi tra l'altro Simpaticissimo Sigla Chi me l'ha messa Sta sigla Chi l'ha messa Vediamo Non vedo chi l'ha messa Ma può essere solo Lonly Che fa ste robe Ok Bene 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 Allora Allora Vedete Io qui ho questa logica No? Come dovrei avere Il mapping Come avevo per esempio L'if Ma volendo Con l'operatore ad hoc Per esempio Per esempio Dov'è? Qua? No? Qua E andiamo su Filtering Penso Eccolo qua The bounce time Perché maltrattate PHP Chi vi ha fatto di me? No infatti Infatti Allora The bounce time Qua Discard Emitted value Quindi annulla Gli eventi I valori emessi Che Prendono meno Del tempo Specificato Dall'output Suona un po' strana No? In sto caso Un marble diagram Che qua non mettono Però mettono sempre Degli esempi carini E anche Vedete Il link Alla doc ufficiale Il debounce E il debounce Il marble diagram Potrebbe aiutarci a capire Ovvero Qua viene messo Allora Questo observable Observable Che emette i valori Che viene spesso chiamato Source Observable E qui vediamo Che viene messo un valore A Tipo il testo digitato Dopo un secondo Dopo 20 Unità di misura A caso 20 Viene emesso Il valore A Viene emesso Qui B Questa sotto È la subscribe No? È l'eventuale Operatore successivo Per capirci O l'eventuale subscribe Che riceve il valore No? L'observer Quindi in questo caso Abbiamo B Che come vedete Invece in questo caso Viene ignorato Perché? Perché qui abbiamo messo C E questo lasso di tempo È inferiore A quello specificato qui Quindi se questo lasso di tempo È inferiore L'evento Il valore viene ignorato Bene Andiamo qua E piazziamo The bounce time Con un valore Per esempio Di 1000 Che deve essere importato Perché timer d'errore Qui non si sa The bounce time Togliamo questo E abbiamo gratis Tutta questa logica Praticamente Quando arriviamo qui Se non aspettiamo Almeno Super brutto Se non aspettiamo Almeno un secondo No? Non viene emesso Nessun valore Quindi se qui Non c'è un intervallo Di un meno secondo Tra la precedente missione E la successiva Viene schippato Una sorta di filtro Temporale Però stiamo portando Anche webpack È vero Branded E c'è sesso Ultimamente Grande Grande È vero No no Comunque un sacco di roba Ok No? Vedete quanto Abbiamo risparmiato Già in codice Ora Pensate questa cosa In architetture più complesse No? Qua Potete fare veramente Un sacco di Magheggi strani E tenendo conto Che abbiamo un centinaio Di operatori a disposizione No? Fa proprio Ok Ok Ultima cosa Che mi piace Questa qua Adesso E tra l'altro Poi facciamo un passo indietro Vi mostro questi operatori Ancora un po' più nel dettaglio E altri Quindi con un esempio Più semplice Meno realistico Ma che fa capire un po' Più facilmente Il tutto Grazie Interessante So già È l'operatore sbagliato Per chi già lo conosce L'operatore sbagliato Ma Vi faccio vedere cosa succede Io scrivo Roma E viene messo Roma Scrivo Milano E viene messo Milano Qualcuno già ride Perché sa la mia stronzata Che dico Con questo esempio Se scrivo di nuovo Roma Vedete che viene ignorato Distinct Distinct semplicemente Cosa fa? Si salva in memoria Tutte le precedenti emissioni Non tutti i caratteri Occhio Perché In questo punto Io ci arrivo solo Dopo il The Bounce Quindi abbiamo messo in memoria Roma Abbiamo messo in memoria Milano Siccome ho riscritto Roma Lui fa un check Se era stato già emesso E lo ignora Giambacchio arriva a Milano Esatto E lo ignora E Cavolo Doveva essere una live serie questa Per poi riproporla Riregistrata Ma non ce la posso fare A questo punto No Non è il massimo Cioè può essere una scelta Quella di evitare E ora pensate una cosa Un utilizzo completamente diverso Immaginate che questa sia una socket Che può diventare un observable Ci sono dei valori emessi E vogliamo evitare i duplicati No? In questo caso Possiamo evitare i duplicati Con distinct Non mi verranno mai emessi Perché non ci servono più Quindi Qua passiamo da un input A uno stream di dati Di una socket A qualcosa altro No? Quindi i concetti Sono gli stessi Applicati a contesti Completamente diversi Ma siccome io in realtà Immaginate che cerco Roma E voglio il meteo Cerco Milano E voglio il meteo Se ricerco Roma Eh qua devo cancellare Milano E voglio i dati del meteo di Roma Quindi non mi va che sia Schippato No? Questo distinct Mi può far comodo In altri contesti Ma abbiamo invece Distinct until changed Stiamo nella doc Mi sto anche cercando di far capire Come un po' documentarsi No? Su questa roba Distinct Eccolo qua Distinct Se c'è un diagramma Perfetto Non c'è Ottimo Distinct Vediamo questo C'è un diagramma Perfetto Non c'è Grazie Distinct until changed Until Until Changed Vediamo se c'è un diagramma Grazie Non c'è un diagramma Perfetto Ma li troviamo su Google Sicuro questi diagrammi Non c'è Allora Allora Altro sito carino RX Marbles Qua qualcosa troviamo Questo è interessante Questo sito Perché tra l'altro Mi permette anche di giocare Con i valori Se andiamo su distinct Eccolo qua Sono dei marble diagrams Interattivi No? Li troviamo su Google Allora Se vedete no? Il distinct Cosa fa? Semplicemente Quando viene messo Un valore Lo emette Lo emette E c'era già Escluso C'era già Escluso Nuovo valore Viene messo E anche se l'ordine Cambia Non cambia Assolutamente Un pifero Tutti i valori Duplicati Vedete Vengono ignorati Il distinct Until change Eccolo qua Il distinct Until change Invece Cambia Notate che E l'1 qui Viene messo Di nuovo Cosa succede? Viene messo 1 E qui La mia Viene messo il valore L'observazione Mette 2 Viene messo Di nuovo 2 Ignorato C'è l'1 E viene messo Perché questa cosa? Perché il distinct Until change Verifica solo Il precedente valore Non quello di tutta la catena Quindi A questo punto Qui Se questo qui Per capirci L'ho sposto Qui do Vedete Eccolo qui Adesso Siccome il precedente Di 1 Era 2 Qua Cioè Sono sempre diversi Viene messo Se per esempio Questo 1 Adesso lo sposto Di qua Lo metto in questo punto Vedrete che viene ignorato Perché il precedente valore Era già 1 E tra l'altro Viene ignorato anche il 2 Notare Che prima veniva Piazzato anche il 2 Ma avendo spostato questo Adesso anche il 2 Qui E in mezzo Qui il precedente valore era 2 Viene ignorato Quindi In questo caso Deve abbandonare Ciao Markintosh Alla prossima Grande Tinacchio Ti ho chiamato a caso Con nome Ho perso qualche area per strada Allora E il distinct Until change Eccolo qua E metto Roma Descrivo Roma Giusto Viene ignorato Perché immaginate Che io ho fatto la chiamata E qui visualizzo i dati di Roma Che senso ha Rifare la chiamata Se ho già In UI Quei dati No Milano Milano A questo punto Se tolgo l'ano E rimetto l'ano Si aspettava questo Cristian Che la facevo Vedete in questo Eh no Ho sbagliato Vedete Devo anche rifarla Perché se abbiamo Niente Devo rifarla Roma E viene emesso Milano Siccome precedente Era Roma No Sono troppo Sono troppo lento Come è che sono lento A digitare Aspetta Niente Vedete Ho perso la battuta Per strada Milano Perfetto Tolgo l'ano Rimetto l'ano Siccome è sempre Milano Non viene Emesso Quindi praticamente Vengono emessi Solo i valori Diversi Infatti anche qui Se il digito Di nuovo Roam Viene ignorato Finché non scrivo Qualcosa di diverso Molto carino Questo approccio Ripeto Negli autosuggest Di solito Visto che Sei contento Fino a me Ho detto Milano Niente Vorrò cambiare città Trovare qualche altra battuta Meno volgare E praticamente Questo è quanto Se vogliamo Concludere con la ciliegina Anche perché Il tempo ormai È tardi In realtà Devo dire che Ho fatto una lezione Completamente diversa Da quello che avevo in mente Che era mostrarvi Questi operatori Con dei numbers Però vabbè Spero che sia stata Comunque eventualmente Gradita L'ho suggerito Un'altra città Che non posso menzionare In chat Allora Qua vi mostro Una cosa interessante Come faccio A Eventualmente Fare una chiamata Al server Allora Import Importiamo Un operatore Ajax Ajax From Rxjs Slash Ajax Questo è un suo pacchetto Tutto suo Ma lo vogliamo Saper la città Allora E Vabbè Andiamo avanti Allora A questo punto No Qui Io potrei fare Che cosa Ajax Per chi usa Angular Più o meno Come L'http client No Qui possiamo andare A fare una chiamata Prendiamo Un sito a caso Dove far chiamate Jason placeholder E andiamo E andiamo qui A fare una ricerca Io posso usare Jason placeholder Con punto di domanda Q Uguale E metterci dentro La lettera N Mi troverà Praticamente tutto O per esempio Se cerco Kulas E mi è venuto Sott'occhio questo Kulas Vedete che trova solo Kulas No Oppure Brett Che è sempre qua dentro Brett So che se ne cerco due Perché l'uso sempre Brett Ne troverà due Ed elementi l'uno E il dieci Non leggo più Non leggo più Lonely Le tue cose Bannate No scherzo Allora Praticamente immaginate Di voler digitare il testo E cercarlo qui dentro No Quindi Quindi Andiamo qui Get json Usiamo i backtick Ci piazziamo qua dentro Il text Però Questo che cos'è Get json Get json Ritorna un observable Di unknown In realtà qui possiamo Specificare un observable Di user Adesso metto any Perché non c'ho gli utenti Forse ce li ho Non ce li ho Ok Quindi questo tornerà adesso Un observable Di array di any O array di user O quello che è No Ok E un observable E un observable Per E diciamo Funzionare Per ricevere dei valori Vedete qua La network console Se andiamo a mettere qui Filtrare per i user Noterete che anche se Refrescio C'è troppo zoom qua Non viene invocata L'api users Questo perché Finché non lo sottoscriviamo Punto Subscrive Eccolo qua Finché non lo sottoscriviamo Dovrebbe Ah sì Grazie al piffero Devo scriverci qualcosa All'interno Quindi scriveremo Brett Non ha funzionato Come speravo Giusto Perché non c'è un console log Eh però La chiamata avrebbe dovuto Farla Vediamo Vediamo qual è il problema Potrebbe essere un problema Course Però non la vedo neanche Chiamata qui Non la vedo neanche fatta Effettuata Aspetta Brett Giusto 1000 Ok perfetto Vediamo qualcosa Ah sì Fetch Square su JS Avete ragione voi Users Eccoli qua Ok Perso Ho sbagliato tab Allora Brett Eccolo qui Viene fatta la chiamata Però di corto Non ce ne sono Quindi dovrai ricevere Il risultato Eccolo qua E quindi anche qui Potrai ricevere Il risultato Console log Vediamo qui Cerchiamo Brett Ed eccolo qui Il mio risultato No Se cerco Br A br Non può andare Perché abbiamo il filtro Minimo tre caratteri Togliamo questo filtro Puliamo qui Scriviamo qui Br Ma sì N E Maddio mio Br Eccolo qui E abbiamo semplicemente I due risultati Perfetto Ci siamo Eh ho visto Grazie dottor Allora Come vi dicevo Qui Sarebbe carino Arrivare già Con il risultato Il risultato Quello Che mi interessa Ho metto un po' la musica Almeno sento un po' di musichetto Spero che non ci sia ecco Allora Sarebbe carino Sarebbe carino arrivare già Con il risultato Ovvero Qui dentro Non sarebbe carino Arrivare già Con L'array Di utenti Quindi il mio risultato Dell'operazione Console Log Users Ehm Non l'ho capita Allora Li so che ho una battuta Ma non l'ho capita Allora Cosa possiamo fare Volendo Qui Potremo usare L'operatore map L'operatore map Qui prenderà Il testo Che Restituito dagli operatori Precedenti Adesso ho capito Grazie Che da te la spiegazione Odo Acre Odo Acre Ehm A questo punto Qui potremo andare A piazzarci La nostra chiamata Guardate Questa qui Qui dentro Ok Allora Allora L'abbiamo piazzato qui Cosa succederà Users Di che tipo sarà Secondo voi User di riga 19 Che type è Vediamo se Sapete Scappato Schimpi Ciao Schimpi Observable Esatto Questo qui È un observable Di any array Perché in realtà E io sto Usando il map Per rimarppare Questo testo Ad un observable Quindi qui mi arriva Un observable Di conseguenza Questo non sono gli user Ma è il mio observable Ciao Schimpi Oh grazie Anche dei cento Grazie Non serviva Grazie mille Tu non ti sei annoiato Troppo qui Comunque Risseguite Schimpi Davvero Date un occhio Al canale Cliccate sul suo nick Io non sono Così bravo Da avere i messaggi automatici Per spammare Gli altri Gli altri streamer Scusami Devo dire Cliccate sul suo nick Allora Qui abbiamo Observable Di Diciamo Di C'è la Subskate di questo Observable E possiamo recuperare Il risultato Quindi l'unico vantaggio Che in realtà abbiamo avuto E' stato che Quando faccio la ricerca Qua abbiamo due elementi Il vantaggio Che qui abbiamo messo La definizione Della nostra chiamata AJAX Passando il testo Direttamente in line Però qui comunque Dobbiamo sottoscriverla E un altro Buona regola Adesso sfidranno le icone Ed è un approccio idiomatico Di RIS Quello di Evitare Subscribe Dentro subscribe Non ci sembra Mai con la programmazione Poi tu in questo caso Sei molto più bravo Ed è sempre un piacere Grazie mille Grazie ancora per i 100 E grazie mille Per il Rai Davvero La differenza con il TAP Qual era? Aspetta Non l'ho capita Iger Dammi qualche informazione in più Poi parliamo anche del TAP Che può essere comodo Sapevo Lolli Che tirava follicone Idiomatico Allora Dopo arrivo a Iger Però scrivimi qualche dettaglio Per farmi capire Cosa intendi Qui però Non abbiamo risolto il problema Nel senso Perché un approccio idiomatico È quello di evitare Che ci siano subscribe Dentro subscribe L'ideale è arrivare Qui dentro Già con il risultato Quindi Io l'ho già spiegato In qualche live Questa cosa Chi ha seguito i miei corsi Già lo sa Quale operatore Posso usare qui Non al posto del map Occhio Qui Per fare in modo Che a questo punto Qui mi arrivino Arrivino Gli utenti Direttamente Vediamo chi si ricorda Dalle live O dalle lezioni Hola Mickey Ciao Michele Steven Lui è il mio compare Della Ma me lo conoscete Dai Per la masterclass R.I.J.S. Che vedete Qui No Fabio Al posto Del map E scusatemi Quello va al posto Del map E della soluzione Una delle potenziali Soluzioni finale Finali In questo caso Non dirlo Michele Ovviamente E qui Se volessi arrivare Qua Devo piazzare Un nuovo operatore No Con by latest Poi un operatore Di creazione Niente Luca Svelato Luca Non vali Non vali E Il merge all Merge all Scritto in questo modo Vediamo cosa fa Il merge all Non mi ricordo Se la documentazione È una spiegazione Merge Mall Merge all Convert An higher observable Into a first Aspetta Ogni tanto le definizioni Sono bellissime Quelle della doc Convert An higher order observable Into a first order observable Which Concurrently Delivers all value Da dare meter On the inner observable Allora Infatti Per quello ho aperto L'R.I.J.S. Ogni tanto Perché le definizioni Della documentazione Di R.I.J.S. Non sono sempre Molto molto chiare E E quindi Consiglio All'inizio Di andare su L.I.J.S. Sono convinto Ma non sicuro Che la spiegazione Sia più Semplice Collect And subscribe To all observables In realtà Questo è quello Che ci interessa Subscribe Observable No? Quindi diciamo Che è leggermente Più comprensibile Rispetto a questa No? Come definizione Quindi collezione Sottoscrive Gli observable Che praticamente Arrivano Nel pipe Quindi questo merge all In poche parole Se riceve un observable Lo sottoscrive In realtà Aspetta che questo observable Emetta dei valori Adesso vi faccio vedere Qualche trick Cosa intendo E quando Emette dei valori Gli emette nella subscribe Ed ecco qua Che abbiamo Br N.R. Niente Però Br Con due risultati Qui sotto E abbiamo quindi Creato No? Una piccola Sequenza Con già Un po' di chicche No? In più Siccome Map E merge all Vengono spessi Spessi Spesso usati insieme Alla fin fine Possiamo usare Un operatore speciale Che si chiama Merge map E abbiamo Lo stesso identico N.R. Niente Non ce la posso scrivere Br E abbiamo Lo stesso identico Risultato Arriviamo qui Viene passato Il Br N.R. Il valore Qui dentro Viene sottoscritto E vengono emessi Dei valori Qui sotto Ecco qua Ora Le differenze Tra merge map Switch map Exhaust map E conquer map Ne parliamo Praticamente Quasi All'inizio Della masterclass Che vedete Qui Sbagliamo braccio Qui E quindi Ne ne riparleremo Poi Lo faremo Tra l'altro In angular Con un po' Di trick In più No? Quindi ci sono Delle differenze Tra questi operatori Però Quindi Dove già Darvi un'idea Di come Possiamo No? Quindi Andare a Andare a Praticamente Creare Delle sequenze Di observable Dove abbiamo In questo caso Due observable Per esempio Questo Che prende il nome Di outer observable L'observable Diciamo che Emette I primi valori E che è quello Originale Che io sottoscrivo Per poi passare Ad un inner observable Che viene invece Definito attraverso Il merge map Che è quello In realtà Che sottoscriviamo Alla fine Infatti Noi non riceviamo più Nella subscribe Valori Del primo Observable Ma riceviamo Quelli dell'ultimo Observable Che abbiamo qui Ok? E io mi fermeri qui Per quanto riguarda La parte Questo esempietto qua E se volete Andiamo a vedere Però ho bisogno Di una pausetta 5-10 minuti E il Non c'ho un push Non so Forse non ho creato Sì ho creato La scena break E vi voglio far vedere Alcuni operatori Invece Che vi permettono Di andare A Completare Gli observable A gestire altre dinamiche No? Ancora un paio di cose In realtà Mi ho venuto in mente Ancora un'ultima cosina Buonasera Michele Sono l'unica A cui si impalla Twitch su PC Tu su PC Non hai Mac O intendi sempre Un personal computer Ok Ok Allora No comunque Anche a me capita Che ogni tanto Ho le live Degli altri Che mi scattano Non so perché Qua vedo Fotogrammi persi Zero ancora Allora Detto questo Ancora un paio di cose Per esempio Mi avete chiesto Per esempio Immaginate di fare Una sequenza diversa Un giro diverso Si blocca proprio la pagina Poca rame Povero PC Boh Ok Adesso Io scrivo il campo di input E qualcuno Aveva suggerito prima Non sarebbe più figo Cliccare Sul pulsante E prendere il valore Del campo di input In quel momento E fare la chiamata In quel momento lì Possiamo avere tre observable Qui Un observable per i click Un observable Del campo di input E un observable Per la chiamata HTTP GET Come le mettiamo insieme? Allora Quella di Angular È di persona Sì Quella di questa academy È da un mese Praticamente Tre volte a settimana Più il sabato Di tutoring Con esercizi Di ottobre Quindi ormai Pochi giorni E poi abbiamo la masterclass Il 7 8 O l'8 ottobre A Verona Dal vivo E quella di React Sugli unit test Sempre a Verona Dal vivo Il 20 O giù di lì Gli orari Dell'academy React Sono dalle 6 e mezza Di sera Alle 10 e mezza E con mezz'ora Di pausa cena Nel mezzo E quindi Lunedì Il mercodì E venerdì Prevalentemente Poi trovate comunque Il calendario sul sito Eventualmente Questo è l'URL E qua c'è il calendario Sotto Tutto quanto Giornata per giornata E il sabato Avete una giornata intera Un tutor Che vi seguirà Per gli esercizi Quindi sono degli esercizi Che abbiamo preparato Step by step Da seguire Più delle micro sfide E quindi Potete farli anche In settimana O nel tempo libero Quando volete Ma il sabato Avete una giornata intera Una persona che vi supporta E quindi Il sabato Quindi tutto il giorno La settimana di sera Riavvia il Mac Benissimo Non ci abbandonare A noi newbie Magari con dei corsi più semplici No vabbè Comunque partono da zero Questi qua A parte le academy Scusatemi A parte questi qui Che sono un pochino più Intermedi avanzati L'academy sempre da zero Detto questo Faccio l'ultimo esempio Dai riguardo questo Poi se volete Facciamo ancora un po' Però faccio una micro pausetta Vi faccio vedere Come gestire la parte Col pulsante Grazie Mike Bello perché Sto guardando la gif E ho messo un po' Lì a caso Qua nel mio lato Qua su Però non è molto Il paginata Allora Detto questo Adesso Immaginate che All'ultimo Immagina Ciao Natalia Immaginate che Al click Voglio apprendere Questo valore E fare Un E fare Una chiamata Al server Ok Ok Vorrei Ricominciare la live Allora Grazie però Si la live è andata Niente Volevo prendere i pezzi Migliori di questa live E poi riproporli Tipo Mandandoli agli iscritti Della Del workshop Però So se è il caso Di farlo Va bene Potrei avere Degli unsubscribe Dalla masterclass Il 118 Mi sa che non funziona Più tanto bene Non lo so Allora Detto questo Ce la facciamo Forse esempio Allora Un piccolo Un micro discorso Che devo fare Ma mai mi sto perdendo In questo caso Noi vogliamo Triggerare Triggerare Se non lo so Vogliamo triggerare Al click Sto cavolo di HTTip Di Ajax No E prendendo il valore Da questo campo di input Allora Innanzitutto Se noi dobbiamo partire Dal click Questo è il punto Da cui dobbiamo Diciamo iniziare Quindi Immaginate che qui Tolgo questo Tolgo questo E andiamo da qui A fare BTN Click Ovviamente Questo non saranno Gli user Ma sarà Un evento Del mouse Al fiuzzo È scritto qualcosa Al fiuzzo Al fiuzzo Mi sono perso Il fiuzzo In giro Da qualche parte Ah si L'applicazione È un orizzonte Temporale Ah vabbè Sono perso La storia del matrimonio Allora Allora E click Bene Quindi dobbiamo fare Una chiamata al server Che più o meno Andrà in questa direzione Però dobbiamo recuperare Il valore Da questo campo di input Ora È ovvio che io potrei Adesso piazzare qui Un pipe Togliamo sto map Lo metto in pancia Lo copio in memoria Togliamo un attimo questi Se io adesso faccio un click Cosa succederà Qui gli arriva un evento Qui gli arriva l'event Quindi è come se stessi passando Q uguale un oggetto Che non è proprio Quello che vorrei Da qui Qui devo recuperare Il valore del campo di input È ovvio che potrei fare Un get element by id Del mio campo di input Recuperandone il value No Però diciamo che Quello è un approccio Un pochino più Spartano Imperativo E si presume Che se questo input È un observable Possa essere invece Recuperato in qualche modo Perché In angular Abbiamo i reactive form Che sono form Reattivi E come il nome stesso Lo lascio intendere Sono reattivi Ti hanno scontato In realtà Espongono una proprietà Value changes Che può essere sottoscritta E praticamente Quello è già un observable Quindi Adesso Quello che faremo È simulare Che il nostro campo di input È un observable In realtà Cioè simulare Lo faremo diventare un observable Che in realtà Poi quando andremo Usare in angular Questo stesso approccio In realtà avremo già L'input Che è un observable Di per sé Non servirà Il mio trick Per farlo diventare observable Quindi Avendo tutti gli elementi Già observable Alla fin fine Possiamo fare questi intrecci In maniera molto più Proficua E ripeto Qua adesso è molto utile Solo per capire Come funziona il meccanismo Allora Se vogliamo usare L'emissione dell'observable Nel template Sì esatto Iger Però adesso Non facciamo Esattamente Senza farla subscribe Sì sì Assolutamente Puoi usare Pipe a sync in angular Quando ce l'abbiamo E lì anche Insomma E anche lì È un altro vantaggio In angular Possiamo sottoscrivere Gli observable Direttamente nel template HTML Togliendomi anche La necessità Della subscribe Quindi Avendo tutto observable Capite che a volte Capita che la mia classe Potrebbe non avere Addirittura codice Potrebbe avere una catena di observable Sottoscritta nel template E basta Cioè Facendo un sacco di roba Figa Ok Detto questo Il peccato per cosa Maurinho Scusami Non so se era riferito a me Detto questo Come recuperiamo il valore Da un campo di input Qui Possiamo usare Per esempio Ci sono diverse possibilità In realtà Potremmo usare qua Per esempio With latest from Con with latest from Che cosa richiede Questo operatore With latest from Richiede qui Un observable Se io qui Vado a piazzare Un observable Che può essere Il mio From event Di chi Di un document Punto Get element by id Del mio input E in particolar modo Dell'evento Input C'è Qua Dell'evento input Alla fin fine Dovrei In realtà Recuperare i dati Emessi da questo observable E in particolar modo Così diventa illegibile Il mio consiglio È quella di andare Qui a creare Un observable A parte In questo modo E qui Possiamo andare A definire Dammi anche L'ultimo Valore messo Da questo campo Di input Ora Grazie 13 toni Di nero Grazie mille Per la sub Ora Vediamo un po' Cosa succede Togliendo un attimo Il merge map Allora Arriba disco Togliamo un attimo Anche questo Mi sottoscrivo al click La mia subscribe Riceve Qui l'evento Else L'evento Se ci piazzo qui Will let us from Occhio Questo era un pointer event Guardate cosa succede Adesso qui Se clicco Un emerito piffero Eccolo qua Devo scrivere qualcosa Un attimo Nel campo di input Qui Guardate cosa ricevo Ricevo Con will let us from Adesso qui Non ricevo più solo Il pointer event Ma ricevo Un array Che contiene L'evento emesso Dal mouse Il pointer event E l'evento emesso Della tastiera Quindi questo qui In realtà È un array Un array Adesso che potremmo Chiamarlo di event Anche in realtà Dove Event 0 È il mio evento Del mouse Event D1 Scriviamo una lettera Almeno Pointer event input Quindi qua Per capirci Volendo Adesso senza Trasciare un attimo La tipizzazione Potrei fare Target value E recuperare Il valore Che ho scritto ABC Nel campo di input Notate che qui Adesso questo Non mi serve più Scrivo ABC Premo click E recupero Quel valore Quindi no Alla fin fine Qui abbiamo Sto array Da cui recupero Il primo elemento Quindi will let us from Cosa fa Prendi dati Da un altro observable E poi restituisce Un array Dove il primo valore È l'observable Sottoscritto Il secondo È l'observable Fonito da will let us from Ma su react Non batte un Use state Quindi un use effect In realtà Io uso ReasyS Anche su react Ogni tanto Adesso non lo uso Da tanto tempo Però lo usavo anche lì Quindi Non so se è una battuta Immagino Se non lo è Però Approfondiamone Dammi anche l'ultimo valore Messo Ma quindi Se scrivi nell'input Milano Basta Nolli Allora Va bene Quindi cosa succede A questo punto Se ci pensate Anche qui Potrei avere Il merge map Che a questo punto Nel text Recupera il valore Del campo di input Con questo Solo che diventa Poco leggibile No sta cosa Facciamo una piccola miglioria Innanzitutto Qui voglio avere Il target value Guardate la chicca Quale può essere Che nel from event Io posso direttamente Qua Fare il pipe Su questo observable Con un map In cui prendo questo E vado a fare Event punto target Tipizziamolo Come abbiamo fatto prima Punto value Così facendo Event così Così facendo Qui Di event Guardate come cambiano Non mi arriverà più L'event Ma mi arriverà già Il suo valore rimappato Perché qui Questo input Viene sottoscritto E praticamente Viene sottoscritta Anche questa pipe No? Quindi con questo map Quindi scrivo ABC Click me Non ha funzionato Grenche bene Forse se ci scrivo Dentro qualcosa Console.log Funziona meglio ABC Click me E qui abbiamo Direttamente ABC In poche parole Qui abbiamo già Il testo Che ci serve No? ABC Events di uno Non è proprio Il massimo No? Quindi cosa potremmo fare? Potremmo avere qui Un map Che prendi parametri Questo array Di due elementi E mi dà solo Il primo valore Così facendo Qui adesso Mi arriva direttamente Il testo ABC Invio Comunque sto usando React book form Per l'academa Mamma mia Un parto Ti ricordi che ti dicevo Che mi fa un po' schifo? Mi fa un po' schifo Allora Text E recuperiamo il valore Esattamente Igar Comunque viene sottoscritto No? Il valore Per recuperare Quelli Diciamo Aggiornati E appunto Se no Non potresti recuperarlo Da questo pipe In realtà Tutti gli operatori Dietro le quinte Sottoscrivono E restituiscono Un altro observable Che l'operatore successivo Sottoscrive E così via Più o meno Questo è il meccanismo Ok Detto questo Detto questo Oh Tra l'altro Per la cronaca C'è anche Chi piace scriverlo In maniera più leggibile Ancora Con il destructuring No? Se noi qua mettiamo Le tonde Qui possiamo usare Il destructuring Negli array Dove il primo elemento È l'evento Del click Del mouse Quindi Possiamo chiamarlo Click event Il secondo Invece È il mio input No? Così facendo Ho fatto il destructuring Dell'evento E qua Ho il mio input Text Magari lo posso anche chiamare Così diventa un minimo Più leggibile Per i posteri Che leggeranno Questo povero codice No? Tra l'altro Se non sbaglio Vediamo se si incazza Se metto una virgola Così Esatto Tanto visto che il primo valore Non mi serve neanche Lo scriviamo in questo modo E penso che ormai sia chiaro Che a questo punto Rimuovo il merge map E andiamo a piazzare qua L'input text Il merge map Lo importiamo Se riesco No quick fix Merge map C'è già il merge map Ah manca la virgola Manca la virgola E di conseguenza Se cerco Brr Clic Si è rotto Perché qua L'ho chiamato text Infatti qua L'ho chiamato input text Arriva text E qua Eh sì ho visto Ho visto Abc No Brr Clic Dovrei avere due risultati Eccoli qua E direi che ci siamo RGJS Così sembra fighissimo Ma solamente Varebbe difficile Spiegare e capire Il perché di certe scelte In termini di ordine Di operatori Ma no Ci vuole un sacco Di esperienza Cioè di esperienza L'ho studiato Io mi sono messo In un'estate Mi ricordo E per un'estate Ho fatto tutte le sere RGJS Esercizi Studiavo Facevo Non è che ancora Adesso sia un guru Di RGJS So usarlo Diciamo così E Text wheel E quindi No richiede un sacco Di esercitazioni Alla fin fine Di prove Per capire un po' Come venirne fuori Alle volte Magari c'è qualcuno Che chiede Una soluzione Sulla community facebook Di Angular Iscrivetevi Se non ci siete E alla fin fine Magari io propongo Una soluzione Vedo un'altra Dico ma che figa Quella soluzione Non ci avrei mai pensato Che magari la stessa cosa Lo stesso risultato Si può ottenere In mille modi diversi C'è una bella curva Sì 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 Non è easy E poi stiamo vedendo Veramente la superficie Adesso E tra l'altro Qui come vi dicevo Poi ho già fatto Dei video in cui parlo Di merge map Switch map Conker Anche lì ci sono Un po' di differenze Che riguarda la concorrenza Di dati Ci sono un po' di cosine Che andremo poi a vedere Appunto In altre situazioni In altre Cine la master Quelle sono altre situazioni Però insomma ci sono Un miliardo di possibilità Per esempio Sto pensando Se potevo usare Un approccio Completamente diverso Per esempio Immaginate che io Deba fare la stessa cosa Però Sia al click Che digitando Voglio che sia Che quando clicco Su pulsanti Che quando scrivo qualcosa Parte la chiamata Al server A quel punto Il punto iniziale Di partenza Nel gioco di parole Non è più il from event Ma è Sia Il click Che il campo di input L'array L'array di eventi Non l'avevi mai fatta vedere Mi sa Quindi questa qua Boh meglio Che la nuova Tu Mario Che me le conosci tutte I miei live Ok E Allora Cosa possiamo fare Anche questo Non l'ho mai fatto vedere Lo sto un po' inventando Al volo Potremmo usare Combine latest Che non ve l'ho mostrato Combine latest È un operatore Di creazione Che accetta Un array Di observable O adesso Nell'ultima release Una dictionary Anche E qui dentro Praticamente Cosa succede Che io posso Piazzare all'interno Più observable E sottoscriverli Un'unica volta Quindi un unico Subscriper Do observable Ci sono delle regole In questo caso Il combine latest Cosa fa? Restituirà L'ultimo valore Per ogni observable Ogni volta Che uno degli observable Emette un valore In più Adesso arriviamo In più Per emettere un valore Avevo anche questo problema Con with latest from Adesso Per emettere un valore Tutti gli observable Che sono in questo array Devono almeno Avere emesso un valore Perché Il combine latest Combina Gli ultimi valori Di ognuno Se qualcuno Di questo observable Non ha emesso un valore Non funziona Non emette nulla Quindi cosa facciamo? Cosa facciamo? Qui ci piazziamo No ho cancellato Aspetta che ho cancellato L'unica roba che mi serviva Questo Eccolo Ups No Troppi ctrl z Troppi ctrl z Troppi ctrl z Eccolo qua Qua mettiamo Combine latest E gli diciamo From event Del click E poi gli piazzo anche O tutta questa catena Qua Oppure direttamente Visto che l'ho scritta L'input E tra l'altro Anche questo Si presta ad avere Una costante Click Ricordo che il dollaro Nel nome delle costanti Viene dato per ricordarsi A colpo d'occhio Che questo è Ok? Che questo è un observable Un po' come l'underscore Per le private Il dollaro Per gli observable Piazziamo qua click Possiamo anche metterlo così Ora Togliamo un attimo Willets from Non ci serve più Il map Non funzionerà più Vediamo cosa succede Intanto così Nudo e crudo Intanto Se ci metto una virgola Una Parentesi C'è troppo parentesi Sì Adesso Quando io clicco Non funziona Perché nell'altro observable Non è mai stato messo un valore No? Se io scrivo qua A Vedete che Adesso abbiamo messo Il pointer event E la A Tra l'altro se rifrescio E scrivo qualcosa qui Non funziona Perché il click Non è mai stato emesso Quindi quello che vi dicevo prima Ogni observable Specificato nel command letters Deve ammettere un valore Quindi a questo punto Quando entrambi hanno emesso un valore Che c'è anche senso in questo esempio Perché Se io clicco No? Ma non ho ancora scritto qualcosa Che ricerca fa? Aspetta che abbia ricercato BR In questo caso Sta già facendo la ricerca Oppure La fa anche al click E beh In poche parole Qua dentro Vado a piazzare un merge map Quello che mi serve È il secondo valore Vedete che viene messo Un array Come il test Mette un array Di valore Un po' come prima Anche qui posso usare Il destructoring Salto il primo valore Prendo il secondo Che è il mio testo Spero di non aver C'è quel quadro C'è quel quadro Che non cose In questo script Aspetta 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 Cos'è che non gli piace? Aspetta Togliamo indietro Ok Qui Parentesi tonde Destructoring Ok Avevo sbagliato qualche parentesi Saltiamo la prima E prendiamo il testo Della seconda E in teoria Dovrebbe andare Qualche parentesi in più Eccola qua Sempre qui Noops Sì ok A posto Quindi scriviamo Brett 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 Ancora non fa nulla Perché non ho mai Cliccato qui Clic E mi trova Il mio oggettino Brett No per esempio Oppure anche quando Scrivo qualcosa all'interno Poi è chiaro Bisogna fare un debounce Qui ci starebbe anche Il debounce Così non lo fa ogni volta Potrei mettere sotto il mappo Il debounce Qualche altro controllino Valore iniziale E così via Eh sì Ho visto Quadro di troppo C'è quel quadro Che non cosa Esatto Tipo Non use effort Con degli stand Il valore di pendenze Sì Alla fine Sì Aspetta Come sintassi Sì Poi come funzionamento Un po' diverso Però ci sta Dai anche No Comunque vi invochi una funzione Quando cambiano le dipendenze In sto caso Vabbè è un po' diverso Come meccanismo Però potrebbe ricordare No Domanda perché è così Contro l'uso delle promise Da quello che ho capito L'only Ma semplicemente Perché le promise Servono semplicemente Per gestire questa chiamata Asincrona E la callback Viene invocata una sola volta In Se tu trasformi In Rx.is Più che altro Molti trasformano Degli observable In promise Alla fin fine Avrei solo una volta La callback Perdi tutto il vantaggio Di avere stringi dati Non puoi creare Questi trick del genere Che tu dirai Ma meglio che non posso crearli Vivo meglio Però in realtà Perdi Perdi il vantaggio Di avere appunto Gli osservabili Non è più un observable E non lo usi più Quindi tutto qua Insomma Le promise Non si integrano bene Con questo meccanismo Posso ottenere Posso ottenere lo stesso risultato Con una fork join E cambia qualcosa La fork join Non funzionerà Perché la fork join Emette dei valori Solo quando Invece Gli observable Completano E l'input E il click Non completano mai Quindi in questo specifico Scenario Ci sono alcuni scenari In cui i combine latest fork join Possono essere assolutamente Sostituiti l'uno dall'altro Tipo Se qui dentro ci piazzo Due chiamate al server E voglio farle simultaneamente Potrei avere qui Un ajax get Un ajax get E qui recupero Il risultato di entrambe Questo stesso combine latest Può essere usato Ripeto Per fare chiamate simultanee Però in questo caso Non funziona Perché gli observable Devono completare L'ajax get Completa E quindi viene messo Un valore E il fork join Dice Quando tutti gli observable Completano Allora ti emette Il valore di tutti Quindi non completano mai Sigla Esatto Questi sono tutti I cold observable Che ha Caledato Quindi Non parliamo di multicast Oggi E mai Se non parlerò Nella classe Appunto sponsorizzata Qui Però adesso È un po' lunga Detto questo Detto questo Vediamo se Qualche altra domanda No Direi che Non ci siamo L'ordine di inserimento Degli eventi È importante Qua In realtà Non è importante Nel senso che però Se l'inverto Per capirci Se questi qua Intendevi L'inverto Qui avrei Comunque I valori invertiti Cioè L'ordine Esatto Forse questo Intendevi L'ordine Che definiamo Qui Lo stesso ordine Che riceviamo Qui Infatti Qui sto Skippando Il click Che mi interessa Solo intercettarlo Per trigger Per triggerare Eventualmente Qui Un evento Ma Il valore Non mi interessa Lo recupero Solo da questo Quindi sì L'ordine Assolutamente Importante E si può usare Anche comunque Come dictionary Adesso Quindi qua Abbiamo anche Graffe Che lo risulta Un pochino Più leggibile Quindi qua Potremmo avere Il click Che è questo E il Chiamiamolo text Così faccio vedere Che è diverso Così Qui Riceviamo A questo punto Un oggetto Posso usare Il destructuring Il destructuring Qui Degli oggetti Di strutturo Text E lo recupero Dovrebbe funzionare Lo stesso Avc non trova Niente Giusto Vr Trova i due elementi Qua Poi si manca Il debounce Quindi lo fa Adesso Ad ogni lettera Digitata Comunque Eventualmente Che questo Un altro approccio Con la dictionary Ottima domanda Tim Timons Però la domanda Qual era Ok Esatto Esatto Quindi perfetto E' assurda La legibilità Che può dare Il codice In questa libreria Spero in senso positivo Tra l'altro Anche perché Qua Alla fin fine Const HTTP Anche questa Può essere messa Qui dentro Non deve essere Per forza In line La piazziamo qui La chiamiamo HTTP Dollar Ovviamente Vedete Questo richiede un text Quindi questa La trasformiamo Per esempio In un arrow function Function E qua andiamo A chiamare HTTP Passandogli il testo Allora diventa Ancora più espressiva Poi questa La piazziamo così No? E' impocheribile E abbiamo fatto Comunque una bella cosa Ripeto Un esempio banale Non funziona Neanche molto bene Ancora Ma in contesti Cioè nel senso Che mancano Pugli dettaglietti No? Però è tanta roba Alla fin fine Ci permette di fare Un sacco di cose Tra l'altro Se ci pensiamo In Angular Abbiamo già questo Reattivo Perché non dobbiamo Fare il from event E' già reattivo Il campo di input E anche le chiamate HTTP Sono già reattive In Angular Sono già degli observable E questo risponde Spesso a una domanda Che mi fanno Ma perché gli HTTP GET Sono degli observable Non mi bastava La promise Certo Ma non potresti fare Queste cose qua No? Ed è per quello Che appunto L'hanno creata Appunto Sotto forma di observable E un observable Anomolo Non un HTTP GET Perché è uno stream Di dati Che alla fine Restituisce solo un valore No? Quindi che cavolo Servivano stream di dati Però potete fare Ste magie Perché in questo caso È meglio Merge map Di switch map In realtà In questo specifico caso Dipende da quello Che vogliamo ottenere Lo switch map Nesso non volevo Entrare in quest'ottica Però in realtà Lo switch map In questa cosa Perché in realtà È il tema della massa Che richiede Un altro bel po' di tempo Però Te la dico Se già conosci Un po' di meno I termini No? Alla fine Fabio Ne avete già parlato Il merge map Semplicemente Sottoscrive Tutti gli inner observable Quindi ogni volta Che dispacci un evento Te lo sottoscrive Lo switch map In realtà Sottoscrive Il successivo No? Però se ci sono ancora Impending Dei precedenti inner Ti fa l'unsubscribe Quindi se questo qua Per capirci Mentre qui Bretta Mentre qui A ogni digitazione Mette un valore Perché li sottoscrive Tutti Lo switch map Nel momento In cui scrivo qualcosa Me ne mostra solo uno Perché mi fanno Gli assubscribe I precedenti No? Quindi la differenza Tra switch map Merge map È la concorrenza Di come viene gestita No? Per capirci Vediamo Come approccio Preferisci mettere All'interno della funzione Di che l'esternamento Non serve Beh guarda Igar Penso che ti Stia già rispondendo Di spostarli fuori Penso che quello Che intendevi Sicuramente diventa Più ordinato Poi dipende Dalla complessità Insomma Per non diventare Passo io a ricordare A rileggermi poi Perché poi vedete Questo può avere un pipe Questo può avere un pipe E magari anche la gestione Degli errori Con catcher E via dicendo No? A quel punto Se li mettessimo Tutti qui dentro Avrebbe un pipe Con dentro Observer Con dentro pipe Con i catcher Magari erano dentro Degli altri Inleggibile Così Non riusciamo a mantenere Un minimo di ordine No? Promise uomo medio Observable rock Che stupido Grazie Luca L'ho anche letta Pensando che tu Persona seria Avessi fatto un'osservazione Sensata Perfetto Beh un po' di senso Ce l'aveva Però Allora Infatti vediamo sotto Luca Bravo L'idea è quella Però Non l'avevo visto Allora Il value change Deve essere Deve avere la subscribe Vero Quindi switch map Pi the bounce map Più map Questa non l'ho capita Boh No non è la stessa cosa L'ho un pochino più complessa Un pochino più particolare Però magari ne riparlerò poi Di questa cosina qua Poi mi fa la masterclass E poi magari continuiamo Questa parte qui di javascript Con questi dettagli Deve avere la subscribe Si Calle Deito E in più Occhio Occhio Che lì incontreremo Degli errori Se partecipare alla masterclass Che spammer che sono Comunque sia Ti anticipo Ti spoilero che Se in questa catena Anzi Come posso generare un errore Così Già la prima chiamata Scrivo Brett Non fa niente Perché mi manca ancora il click Clicco C'è un errore Che non vedo Perché mi sa che non ho Loggato da nessuna parte Quando scrivo Padam Alla fin fine Si è rotto Praticamente L'altro problema Che avrai Anche con i reactive form E che se poi In questa catena C'è un errore C'è una cosa Che non vi ho detto E che in realtà L'ho trovata Nel video di youtube Per quello non l'ho ripetuto Che se nella catena Di observable Per qualche strano motivo Anzi Prima di tutto Se si completa Una volta che si completa Io posso anche provare A emettere dei valori No? Qui sì Dei valori Ma vengono totalmente ignorati E La stessa cosa accade Se c'è un errore Tac La x rappresenta un errore Da quel momento in poi L'observable Smette Di vivere E di conseguenza Anche se emetto Dei valori dopo Come in questo caso Questi emettono Dei valori In mio campo Di from event From event Però E' andato in errore L'http E mi ha bloccato Totalmente la catena In questo caso Dobbiamo gestire L'errore Con catch error E altre dinamiche Che adesso Non vedremo Se no Vado avanti Tutta la notte A fare queste cose Però occhio appunto Che anche In quel caso Devi gestire la Quella active form Questa situazione Mentre per quanto riguarda La subscribe Sì Ti confermo Che eventualmente A meno che Non usi la pipe a sync Nel template Che fa la subscribe Automatico E lo fa solo in angular Può funzionare Devi farlo tu C'è l'operatore Catch error Da mettere nella pipe Esatto 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 Che ci serve Proprio per gestire Questo E' possibile Stabilire Adesso ripeto Di solito Lo faccio vedere Ma Vado avanti Da vita Se no Nella live E' possibile Stabilire Un ordine preciso Di esecuzione Degli eventi Prima di scatenare Il subscribe Non so Se ti è chiara La domanda Non mi è chiaro Non mi è chiarissima Comunque L'ordine di esecuzione Dipende Da te Da come vai a piazzare Praticamente il primo operatore Che vai a inserire qui Alla fine Questo che determina Chi appunto Fa cosa E il fatto che sia In simultaneo Un click Con text input Che entrambi Devono mettere un valore Oppure che entrambi Devono completare Dipende dall'operatore Che voi utilizzate qua Quindi siete voi L'ideale è Conoscere bene Come funzionano gli operatori Nella loro Diciamo semplicità Con esempi anche singoli E poi Riuscire a mettere In mezzo tutto E cercando di ricordarsi O di capire Quale operator Usare in un determinato Contesto C'è sempre la guida Non quella ufficiale Ma questa Che è molto comoda Perché qua in creation Vedete che Abbiamo i vari operatori In realtà Vediamo combining Dovrebbe essere Quelli qua Combination Qua vedete gli altri operatori Merge Fork join Merge all E l'unica è andare qui E vederseli tutti Poi non è che me ne ricordo Tutti anch'io Anzi Ce ne saranno Penso una trentina Quarentina No una trentina Ventina Forse che non l'ho mai usato Non so neanche come funzionano Però ogni tanto dico Per wise Che volessero per wise L'altro giorno mi serve Utilissimo Se non l'avessi visto Tempo fa Per vedere cosa fa Carino Perché potete avere Il valore attuale E il valore precedente Per esempio Un'applicazione Non chiedetemi perché Mi serviva avere Il token attuale E il token precedente Se cambiava E col pervenio Io avevo sempre in memoria Ogni volta che mi rimetteva Il token Avevo anche il precedente Non mi ricordo per cosa Mi serviva questa cosa Però per dire C'è già un operatore Perché inventarseli Il pipe è prima Della subscribe Ok Grazie Elsinet Per la sub Però è strano Che puoi cliccare Sul bottone E puoi scrivere E parte la chiamata E in questo caso Si è strano Perché non è L'operatore giusto Però in realtà Se volessi risolvere Quel problema Il motivo è che Il motivo Che il combine letter Non è che serve A far questo Semplicemente Gli observable Che passate Devono tutti quanti Aver messo un valore Per poter Emettere un Per poter poi Emettere il valore qui Di conseguenza Se io scrivo qui dentro E il click Non è mai stato emesso Non emette nessun valore Adesso c'è anche l'errore Nella chiamata qua Non riesce a fare nulla Come anche se clicco qui E non è stato emesso Nessun valore Immaginate che io voglia Comunque far partire Una chiamata al click me Potrei eventualmente Dovrebbe funzionare Se gli metto qua Start with Forse ciao Con un valore Non lo so E provo a ipotizzare Vediamo un po' Scrivo qua qualcosa No Scusatemi Anche se non scrivo nulla Adesso Al click Dovrebbe partire Non troverà nulla Perché avrà come valore Di default ciao Quindi in teoria Avrà fatto la chiamata Con ciao Qui è passato ciao Qui è arrivato il ciao E me l'ha messo No Quindi comunque ci sono Per quello prima di se Ci sono i trick per fixare Qualche problemino Qua e là Ok Nando dice Si intendi scattano La serie di eventi Prima che avvenga una SubSkyForce Ti potrebbero inserire Tutti nell'array Che accetta come Dipende Il problema è che È troppo generica La domanda Cioè a quel punto Bisogna capire lo scenario Ed ovviamente Trovare una soluzione Per quello Quindi devo capire Un minimo meglio La domanda Per come è scritto Ora Se fai click Con input vuoto Scatteni l'evento click E poi appena scrivi Nell'input Il secondo evento parte La chiamata È possibile ignorare O abolire l'evento click Se l'input In quel momento È vuoto In questo In realtà adesso In questo modo La chiamata serve Partirà solo il click Sì assolutamente Tu qui comunque sia Prima dello switch map Ci puoi piazzare un filter Un filter Che analizza i valori E decide Che la condizione Sarà true Se vuoi farlo passare Oppure false No? E quindi te lo metti tu Come vuoi Sigla Oh grazie a voi Ragazzi E basta Ho finito Ricordatevi Angular Day Spero di vedervi A prescindere Della masterclass Se vi servono sconti Ditemelo Che dovrei avere Qualche buono sconto Per la masterclass E per E la giornata In teoria E React Day Qua abbiamo eventualmente Il workshop Sugli unit test C'è l'academy Angular Anzi React Chiedo scusa E il CodeMotion Spero anche lì Di vedervi Se siete in giro Fermatemi Notte dai Spero che vi sia piaciuta Un po' la sessione Ci vediamo Alla prossima Che come sempre A random E vi avvertirò Notte notte Grazie ancora di tutto Eh ragazzi Grazie